Ero immensamente osservatore. Ma di chi? Di tutti. Persone di ogni età, di ogni ceto. Le chiacchierate mie con i portieri dei palazzi della via dove abitavo, non c'era portiere che non conoscevo. Parlavo, raccontavano, facevano, mi depositavano. Io alla fine sono un collezionista di esperienze e di conoscenze popolari e di uomini, quali uomini? Di qualunque uomo, di tutti gli uomini. Io ho qua dentro la memoria di tutti. Perché non selezionavo, non scartavo. Che cosa avevo da scartare? Io ho imparato quando ero piccolino, a 11-12 anni, a non ascoltare, ecco, 11-12 anni, più o meno qualità di... Non ascoltare, non occuparmi molto dei violenti. Perché la violenza mi interessa per alcuni aspetti, ma certamente il violento, io col violento non mi relaziono. Lo osservo, imparo, ma non mi relaziono. Mi tengo a distanza da persone che hanno quelle caratteristiche, da sempre. Il violento anche con le parole soltanto. Molto attratto dai libri non sono mai stato, mai. Più attratto dal racconto, dalle vite degli uomini e poco dai libri. Io credo che le scuole del futuro dovranno essere tutte scuole di scambio, tutte scuole di esperienza, tutte scuole di lettura, tutte scuole di condivisione, tutte scuole di capire, vedere, osservare, imparare l'uno dall'altro, tutto. Capisci? Perché le università e i luoghi di scuola servono per conoscere le facoltà che possiedi e innamorarsi del metterle in gioco, metterle in moto, insieme agli altri, con gli altri, per generare il futuro della società, la vita nuova. Finalmente potevo scegliere quello che potevo fare. Ho fatto medicina per andare verso la psichiatria, perché mi ero innamorato della vita mentale, non sapevo di essere un innamorato della vita mentale da sempre, avevo dimenticato in parte la vocazione che era partita quando avevo 11 anni, 12 anni. Sai perché le cose, le vocazioni non è che ti tormentano di continuo, perché se sei uno che ha una vocazione fissa diventi quasi pericoloso. Alcune persone sono fortunate, per certi versi, di essere appassionatissime da sempre di ognuna cosa. Avendo un'intelligenza che può provare attrazioni perso tutto, non sono stato così polarizzato, capisci, così specializzato presto. È stato un po' impegnativo, un po' difficile. Tornando a noi, lì all'università è successo questo, che ho imparato a studiare da solo, io lo frequentavo pochissimo. Raramente mi sono piaciuti i docenti, raramente. Come alla scuola si è ripetuto anche all'università. Non mi piace la gente che ripete se stessa. E la gallina in sull'uscio che ripete il suo verso, Leopardi, il sabato del villaggio. L'uomo ripete. Ma chi ripete? Alla fine chi è che ripete? Chi si prende sul serio e si nutre di un inutile cibo? Che è vedere chi sei, cosa fai, come lo fai. Cioè è la rovina della vita di una persona. E io assistere a questa decadenza, a queste rovine, anche no, oggi si usa dire questa espressione, mi piace, anche no, no, meglio aggiungere un altro no. Un altro no, no, no. I docenti universitari che ho conosciuto erano per lo più ripetitivi, per lo più disinteressati totalmente da rinsegnare, detto fra noi. Se metto lì alla lavagna, c'è così, quattro diapositive, manco te guardano in faccia, te salutano a stento. Ma dove ci troviamo? Poi c'era il solito, ogni docente aveva i suoi cocchi, era ridicolo. All'università è tutta così. Ho incontrato solo due professori geniali, mostri, molto geniali. Insomma, una persona che ebbe tanta fiducia nei miei confronti, tanta fiducia. Fu molto colpito sentendomi parlare, per caso, quando andai a accompagnare un mio amico. Perché per me il primato è l'amicizia, il primato è la relazione, il primato è l'uomo, il primato è l'incontro, il primato è sei tu, noi. E poi quello che tu versi a me è importante. Una volta dissero una cosa di Aristotele Onassis. Dissero, dice, che aveva una proprietà, una caratteristica, di far sentire importantissimo chiunque stava a dialogo con lui, come se non esistesse niente del resto del mondo. In un qualche modo accadeva pure a me. Io se parlo con te non c'è il resto, sparisce. Fino a un certo punto perché vedo, sono presente, ho la mindfulness, cos'è. Insomma, per farla breve, lunga vita solitaria, con disagi, gli unici disagi quali erano? Erano questa paura che è arrivata dentro di me. È arrivata una paura del futuro. La paura è arrivata vedendo come funzionava il mondo. Ho capito che nel mondo non si faceva sconti e che tutti erano pronti, per una loro convenienza, a usare qualsiasi mezzo, qualsiasi strumento. Questo è stato traumatico. Però che è successo? Mi sono innamorato della vita e della professione e per cui non è più servito. Mi ha cancellato la paura. Quindi, insomma, ho fatto questi anni oscuri di efficienza meccanica, un'efficienza implacabile. Avevo una bella media di esami, ho preso 110 e lote in medicina il giorno del mio ventiquattresimo compleanno. Dopo una fatica terribile, che mi ha stremato, ho preso la decisione di fare la domanda a psichiatria. Prima di fare la domanda, ho preso la decisione di fare l'internato, cioè lo studente interno, si chiama, per verificare se quella era la mia strada. Perché comunque le strade erano molteplici, ma le paure si affollavano, diciamo, come posso dire, io sarei stato forse anche un buon chirurgo. Mi ha spiegato un chirurgo, mio amico, che l'alternativa tra psichiatria e chirurgia è percepita da tanti che poi faranno o il chirurgo o lo psichiatra, perché sono professioni romantiche, professioni emozionali, professioni di combattimento, professioni in cui tu hai bisogno, in qualche modo, io posso dire che Antonino, adesso di meno, adesso è più placato Antonino, più placato non perché sono più soddisfatto, figurati, nella vita non aspirate alla soddisfazione, la soddisfazione non serve, la soddisfazione, serve vivere, non soddisfarsi mentre si vive. Diciamo, scosso, direi, messo alla prova, diciamo, e anche in quel periodo io non riuscivo a sopportare più i rumori, perché lo stress era diventato talmente forte, cioè della decisione, di quello che dovevo fare, c'era un motivo, che io ero diventato totalmente esaltato un po' dal fatto di essere diventato un medico, vedi che l'esaltazione ce l'ho avuto pure io, mamma mia, ma Antonino pure si era mezzo ammalato, era un medico Antonino, era diventato un medico, ormai parlava da medico, ormai agiva da medico, insomma, a farla breve, cominciai a frequentare psichiatria, e non mi piacquero gli psichiatri, mamma mia, sono contro, contro fare solo diagnosi, questa prassi di fare solo diagnosi, ma io credo che quello sia un po' una lacuna e sia un po' una colpa, una responsabilità del professionista, come si può soddisfare una persona facendo solo diagnosi? Ho la postura del corpo, il viso, i capelli, gli occhiali, gli atteggiamenti corporei, mentre deluso lo psichiatra caporeparto, psichiatra caporeparto, divenuto presto un professore ordinario di psichiatria a Roma, che significa? Cioè, un professore ordinario di psichiatria alla sapienza a Roma, è un dio, nella città. Adesso mi ricordo anche il letto della paziente dove era, la paziente qual era, e mamma mia, che cosa è successo a questa paziente, no, perché ci sono generazioni di psichiatri che l'hanno conosciuta, e io poi ho visto questa paziente diventata anziana addirittura, e ho visto l'aggressività, mascherata male, nemmeno troppo ben mascherata verso la paziente, di una psichiatra che si attendeva dai suoi farmaci, di vedere trasformazioni che non avvenivano, non avveniva nessuna trasformazione, hanno provato di tutto, io ricordo tutti i farmaci che sono stati dati a questa paziente, è una paziente che, non usiamo nomi di patologie, ma di quelle pazienti che possono ingogliare quantità e dosaggi di farmaci di ogni tipo, compresi gli antipsicotici, quindi i tranquillanti maggiori, i grandi sedativi, senza alcun effetto, perché sono cervelli, cervelli proprio, cervelli inteso organo, che sono talmente potenti che resisterebbero anche all'anestesia, non so se per darvi un'idea di quanto sono potenti, poi tutti cedono, però se è bevuto da questi farmaci non gli ha fatto niente, guardate che fa questo, mi ha chiamato come se fossi un rettore di un collegio, mi ha chiamato così da parte a questo caporeparto, mi ha detto erotizzavo il rapporto secondo lui, mi ha detto ma tu mi ci chiami pure da parte, perché mi ha visto più volte a parlarci da solo, io non lo so, poi non sapevo fare niente, io tendevo la mano, tenevo la mano della paziente, e sai, forse tenere la mano va bene, forse non si deve fare, ma io poi dopo è una cosa che è avvenuta sempre meno perché ho cominciato più in piano a imparare qualcosa e a far sentire la vicinanza in un altro modo, forse quella mano lei faceva più dei farmaci a lei in quel momento, tanto è vero che voglio diventare paziente mia privata, penso io lo specializzando voglio venire in cura da uno che era all'inizio, le prime armi, non sapevo fare quasi niente, un ambiente di rabbia e di frustrazione, un'esperienza molto frustrante, sono malattie, sono nomi di malattie, sono nomi di farmaci, sono domande su se erano presenti sintomi o non sintomi, se i sintomi calavano o non calavano, questa era la psichiatria di prima, non mi piaceva il modo in cui si lavorava, così non mi piaceva, ma io non avevo un modo mio da proporre, che ne sapevo, niente, mi laureai, il professore al giorno della tesi mi disse, il professore di ordinario, simpatico era, disse, in questa tesi io non l'ho capita da Amorello, ma ha fatto prima di, di, senti, prima di, che io la esponessi, perché era una tecnica per farmi dire da me in tre parole qualcosa che potesse servire a lui a presentarmi, perché non l'aveva proprio letta, cioè così, non che non l'aveva capita, non l'aveva letta, a un certo punto gli ho detto, eh, ma non l'ho capita nemmeno io, gli ho risposto, e quello si è messa, si è fatto analisata, però quando fu il momento della selezione del concorso, gli disse al professore, ho detto, ho detto, professore mi raccomando, ho detto, io ho fatto la domanda solo qui, quello mi rispose così, Amorello hai fatto bene a dirvelo, e sanno tolva una cosa, sul foglio, e poi passai, entrai, io quando lavoravo all'ospedale psichiatrico, la psichiatria che prevaleva era una psichiatria di oggettivazione, di obiettivazione psichiatrica, di diagnosi psichiatrica, e di tentativo, per carità, legittimo, di poter scegliere il farmaco più adatto per la persona, quindi il tentativo era sano, quindi se trovavano una psicosi, quindi produttiva, cosiddetta, con molti sintomi attivi, perché i sintomi negativi, i sintomi positivi, i positivi sono delirio, allucinazioni, non so, capite, insomma, tante belle cose, ok, loro che fanno, loro avrebbero, andavano a cercare un farmaco adatto per combattere i sintomi positivi, quali sono questi? i grandi tranquillanti, tranquillanti superiori, maggiori, sedativi, potente azione sedativa, rallentano positivamente, attenzione, guardate che il rallentamento è una cura comunque, sia del corpo che della mente, il rallentamento, allora, poi trovavano un altro che aveva sintomi depressivi, che è il farmaco che doveva essere, un farmaco antidepressivo, diciamo, non possiamo dire niente, ha una sua perfezione, e continua ad avere l'approccio psichiatrico tradizionale che poi ha fatto tanta evoluzione perché le molecole, l'industria, mancava che poi c'era, io non dovevo usare solo il farmaco per curare, ma dovevo arrivare a capire di più, io all'epoca non sapevo come si capiva di più, ma dovevo arrivare a capire di più e qualcosa che portava questa persona ad essere, chiamiamolo così, tra virgolette sconvolta, travolta, ad essere turbata molto profondamente in un modo troppo duraduro. Certo, dove andavano male i farmaci? Quando il quadro era più marezzato, potremmo dire, melange, allora lì ti devi armare e una pazienza da biologo, capisci? Allora, arrivo là e va bene, la cosa più positiva che ho trovato è stato l'amaro Montenegro, sinceramente, perché me lo offriva sempre la suora, che era una suora veneta, io sono arrivato, ho passato, questo lo dobbiamo mettere nella storia, 18 mesi senza scrivere una riga di commento nel libro del diario, capisci, del reparto, diario del reparto, un libro grosso così, c'erano scritte cose che non si potevano dire, che c'era scritto di inutile. Se una persona si era agitata nella notte, dice, sai, è stato clamoroso, si è agitato, clamoroso, clamore, aveva fatto chiasso per attirare l'attenzione. Altri si ritiravano nel silenzio totale e si chiudevano, erano quelli che nel cosiddetto withdrawal, il ritiro, capisci, alcuni si coprivano e non volevano nemmeno né vedere né sentire, segno del cappuccio veniva chiamato, del mantello. Era, da un punto di vista umano, un luogo in cui imparare tantissimo per trasformare. Ecco, io stavo lì, che ho fatto? Non lo sapevo, mi è venuto in soccorso un libro, era Behavior Therapy in Clinical Psychiatry, terapia del comportamento in psichiatria clinica. Ho studiato 8000 pagine di insieme, il libro era soltanto magari 200, 250 pagine. Ho studiato per un anno e mezzo, ho formato il personale, ho dato il via al primo in quell'ospizio abbandonato, al primo esperimento europeo, il secondo terzo del mondo, primo esperimento europeo in un ospizio, è nato un progetto che è stato pubblicato in giro, dove potevo, dove sapevo, un sistema che si chiama economia motivante, economia istituzionale basata sui principi motivazionali, vedi, già c'era il causale in erba, come posso dire, in pectore, e per curare patologie diffuse in interi reparti, non per un singolo paziente, è un'economia di reparto, un'economia motivazionale di reparto, per la riabilitazione, per la terapia, e insomma lì ho messo insieme questo reparto di 24 posti letto, non ho informato nessuno, nemmeno il direttore dell'ospedale, ho informato solo le suore, le infermiere che gli ho fatto un corso, quindi prove sperimentali dell'efficacia di un metodo basato sui principi che aumentano le motivazioni e l'interesse usando il rinforzo operante. Sono arrivati 24 posti, abbiamo umanizzato questo repartire, abbiamo trovato un posto fisico adatto, era una sala non immensa, non troppo grande, c'erano altre sale attive, abbiamo creato i laboratori, la cucina, e loro hanno avuto una pervenza, un inizio pervenza che è stato sufficiente a svegliare di nuovo un po' le anime, capisci? E quindi con le prove, con tutto, con le osservazioni comportamentali, con tutto, era tosta quell'odore, quell'abbandono. Intuì presto che la mia vita non poteva rimanere solo in ambito pubblico istituzionale. Allora ho capito questo e allora mi sono guardato intorno, avevo cominciato così a curare qualche paziente con l'entusiasmo, tanto entusiasmo e poca conoscenza, perché l'entusiasmo si diffonde e se un paziente che arriviene sicuramente non ha entusiasmo, i pazienti non hanno entusiasmo, tu hai entusiasmo e tu sei in grado di farti seguire da chi non lo ha. Io ebbe un, ho concepito un progetto, un sogno, un'idea, curare, creare un luogo dove attirare persone che avessero bisogno di cose che io amavo e capivo di più. Sono andato negli Stati Uniti, mi sono informato, non so come avrò fatto a trovare queste notizie, che a St. Louis, nel Missouri, c'era la Human Reproductive Biology Research Foundation. Ho fatto uno sforzo per ricordarmi il nome, Fondazione per la ricerca sulla biologia della riproduzione umana. Si imparava a fare la cosiddetta Sex Intensive Therapy, terapia sessuale intensiva, per coppie coniugali e poi successivamente anche per pazienti individuali. Io lì ho dato il via all'istituto, quindi i primi pazienti miei erano misti, poi la massa più grande è venuta perché diventando famosissimo in quel periodo, intervise, televisioni, si può dire che sono venuti da tutte le parti, pure dagli Stati Uniti, mi hanno fatto un servizio pure su People perché per loro rappresentava così la possibilità di ridare speranza ecco di salute, di unione perché quando viene mutilata la sessualità dentro la coppia le conseguenze ci sono. Io ho creato l'istituto quando avevo i primi dieci pazienti, cioè una cosa da folle perché non sapevo, io non sapendo come si fa a dare il via a qualcosa di nuovo nella vita professionale, io non sapevo che le persone normalmente lavoravano verso altre organizzazioni, si facevano un nome, una clientela, poi dopo si mettevano per conto loro, invece io subito al primo giorno immediatamente no ma io non voglio lo studio, voglio un istituto, diciamo che guarivano un po' più della metà delle persone, ecco così, da questo disturbo, però in alcune persone rimanevano rimanevano tracce, rimanevano impermeabili a questo nostro procedimento che era un procedimento molto precisato, molto tecnico, io ho riflettuto su ogni ombra, insomma praticamente che è successo che abbiamo avuto una tale notorietà, una tale fama che ha portato una quantità di lavoro che ci ha assorbito, però una cosa mancava che era, dispiaceva a me che quello sforzo che facevamo non portava, come posso dire, non veniva testimoniato dalle persone perché all'epoca le persone avevano vergogna di questo tipo di disturbo, di una disfunzione sessuale, e allora io soffrivo del fatto che non parlassero del nostro lavoro i privati e anche mi preoccupavo ho detto è un giorno che finirà questo clamore mediatico ho detto che faremo chi ci porterà il lavoro perché noi dobbiamo lavorare per sempre Antonino idealmente lavorerà fino all'ultimo giorno di vita in ogni singola patologia echeggia vedete echeggia c'è un riflesso di qualunque piccolo ambito remoto della vita mentale quindi chi cura l'area della sofferenza sessuale deve far deve conoscere deve arrivare a imparare a conoscere e riconoscere fenomeni più remoti che si annidano nelle parti più segrete della vita psichica però io temevo di essere troppo dedicato soltanto a una stessa unica patologia poi siamo arrivati al 90 siamo arrivati al 90 17 anni di dolore parziale soddisfazioni miste a dolore perché se io non posso aiutare un solo paziente io mi porto appresso il dolore suo sta con noi o te lo ricordi o non te lo ricordi o ne sei consapevole o meno o è sfumato il dolore tutti i dolori restano con noi per sempre quando è un dolore da generosità che non ha potuto esprimersi da amore che non ha raggiunto il suo traguardo il suo bersaglio l'amore che non raggiunge il suo bersaglio rimane con noi ma rimane con noi non è che ci fa un cattivo servizio ci mantiene umili ci mantiene nella nella disposizione positiva al prossimo ci mantiene attenti a continuare a imparare continuare a meritarci di essere all'altezza della fiducia di un cuore che si apre con noi un cuore che si apre con noi mamma mia poi un giorno il colpo di fortuna quando ormai si può dire era il momento in cui le speranze erano proprio infrante entro in una libreria guardo un libro che sembra con prepotenza volersi far prendere dalle mie mani prima si è stato preso dagli occhi perché ho detto ma chi è questo? ho preso questo libro apro e inizia una fase di studio che prosegue fino adesso sta proseguendo fino adesso in cui abbiamo imparato ad andare all'essenza profonda della causa di ogni fenomeno all'essenza profonda della causa che non avrei io non sapevo nemmeno che esistesse una causa profonda perché noi sapevamo che la causa profonda è intesa secondo la psicoanalisi ma la psicoanalisi non fu la mia scelta allora invece mi sono aperto alle evidenze dei fatti quindi ai comportamenti alle azioni alle emozioni alla misurabilità alla precisione scientifica a tutte queste cose che dovevano calmare la mia paura sedare il mio scetticismo limitare ecco contenerlo e lì è partito mamma mia che è partito è partito 31 anni di di lento progresso d'amore dentro le cause profonde della realtà quindi non solo dell'uomo di tutta la realtà così però vissute non in modo da intellettuale chiuso dentro la sua torre d'avorio che legge e studia si sente grande no sempre piccolo al servizio piccolo al servizio con la scopa in mano con lo straccetto per pulire con con il liquido per pulire i vetri potrei dire così ecco con questa storia qualcosa potrete intuire potrà magari darvi un suggerimento così farvi venire l'idea che potrà aggiungere o comunque o correggere piccole parti in cui tutto ritornerà dentro il binario originario dentro il solco originario anche se inevitabilmente come anche nella mia storia in la storia di tutti dal solco usciamo e nel solco rientriamo e quindi vi auguro di avere l'aiuto anche attraverso questa puntata di oggi questa storia personale così con i suoi elementi utili di oggi